Amiche e amici di Rossini TV, bentornate e bentornati a Checkup Obiettivo Salute. Questa sera parleremo di una pratica medica poco conosciuta ma molto molto importante. Si tratta della podologia, come potete immaginare da questo disegno che è tratto dalle mie scarsissime capacità artistiche. Stiamo aspettando nel suo studio, parleremo con il dottor Paolo Brunetti che è uno specialista in podologia. Questa branca della medicina si può dire che tratta uno dei punti del nostro organismo più delicati, il piede. Ovviamente noi trascorriamo tutta la nostra vita a pesare sul nostro piede. Il dottor Paolo Brunetti ci darà tanti consigli per mantenere la salute il più a lungo possibile. Siamo nello studio del dottor Paolo Brunetti. Buonasera. Siamo qui per parlare di una pratica medica molto delicata e molto importante perché il dottor Paolo Brunetti è un dottore podologo. Un dottore podologo che peraltro fa parte dell'Equip dell'Istituto di Ortopedia del Rizzoli di Bologna, una delle eccellenze italiane addirittura riconosciute in Europa, quindi possiamo immaginare il livello. Dottore, si parla di podologo ma c'è un lungo percorso per diventare podologo. Sì, sicuramente fa parte delle professioni sanitarie, è una laurea triennale che ha la possibilità anche di ampliare il proprio raggio con una laurea specialistica che io ho effettuato all'Università di Ferrara e poi ho completato, come dicevamo prima, il mio percorso rientrando nell'Equip dell'Istituto Ortopedia di Corizzoli per quanto riguarda la parte della podologia, per cui sono un tutor didattico nell'ambulatorio di podologia. Avete già sentito l'incedere del dottor Brunetti, c'è questo mezzo bolognese però anche pesarese, tant'è vero che lui è originario della nostra provincia di Fossombrone, è giovanissimo. Dottor Brunetti, l'importanza del piede, noi non ci rendiamo conto ma noi per 70-80 anni, 90 anni della nostra vita appoggiamo sul piede. Sì, è un punto veramente centrale, importante in quanto il piede sta diventando sempre di più un soggetto di interesse a livello medico importantissimo poiché tiene in piedi tutto il nostro organismo. Dobbiamo stare attenti, valutarne le sue condizioni, portare avanti una cura e una riflessione a livello medico sempre più importanti. Il dottor Brunetti quindi ci ha già fatto capire quanto è importante il piede perché su esso appoggiamo praticamente ogni momento della nostra giornata e sono tante le piccole cose che riguardano il piede. Lui si occupa proprio specificamente, come tutti i podologi, della salute della nostra articolazione dalla caviglia in giù. Il piede appunto è fondamentale per quanto riguarda la nostra vita quotidiana e possiamo introdurre alcune problematiche comuni a cui possiamo andare incontro. Per esempio potremmo parlare, una delle patologie che poi vede il piede molto coinvolto in una patologia purtroppo presente su larga fetta della popolazione è il diabete. Sì, il diabete come sappiamo è una patologia che sta aumentando sempre più le proprie percentuali all'interno della popolazione italiana in quanto lo stile di vita è migliorato e possiamo andare a definire il diabete come appunto una patologia dismetabolica e nel piede come può interessarlo. Interessa nel momento in cui il diabete va a attaccare le terminazioni periferiche. Perché cosa succede? Succede che viene introdotto dal diabete questa problematica che è la neuropatia. La neuropatia che cos'è? È una problematica che va a alterare le sensazioni tattili, sicuramente quella termica e quella dolorifica. Per cui il paziente affetto da neuropatia non si accorge, non si accorge appunto delle problematiche che possono accadere al piede e soprattutto va ad alterare il proprio carico. Quindi tendenzialmente è consigliato che un paziente affetto da diabete possa sottoporsi a controlli periodici circa ogni 2-3 mesi in modo tale da evitare problematiche ulteriori. Certo, il diabete ha tanti sintomi purtroppo, molti sono nascosti, molto sono mascherati. Quelli che riguardano i piedi invece sono abbastanza riconoscibili. Quindi è davvero utile in questi casi rivolgersi immediatamente allo specialista. Ma poi ci sono tante altre piccole patologie che riguardano la vita di tutti i giorni. Per esempio, è terribile patologia che prima o poi ci abbiamo a che fare tutti, le unghie incarnite, dottore. Cioè, sembra una battuta ma in realtà è dolorosissimo. È molto dolorosa, è una patologia che sta aumentando soprattutto a tutti i livelli dell'età dei pazienti in quanto può avvenire secondo determinate cause. Ad esempio, un taglio scorretto della lamina ungueale, un utilizzo di una calzatura troppo stretta ci porta ad un'irritazione, ad un'infiammazione dello spazio per ungueale e quindi dell'unghia conseguentemente. Il trattamento è un trattamento tendenzialmente difficile, per cui va appena ci accorgiamo dei primi campanelli di allarme bisogna rivolgersi allo specialista, per cui al podologo, che effettuerà un primo livello di cura. Sicuramente è molto importante cercare di prevenire questa patologia stando attenti all'utilizzo della calzatura piuttosto che... Quelle che possono essere le cause. Le cause, le cause. Soprattutto è importante evitare un taglio scorretto della lamina. Al primo dubbio è bene rivolgersi a un professionista. È vero, quello è un errore in cui si incorre spesso con le forbici, con i tagli a unghie, che si fanno dei danni incredibili senza rendersene conto. E poi è un'altra patologia che riguarda tante persone, che poi si rende molto evidente anche soprattutto con la bella stagione, con la primavera e l'estate, per esempio è l'onicomicosi. Sì, l'onicomicosi appunto è un'altra patologia che è di dominio comune. È molto semplice confonderla, in quanto può essere dovuta anche a dei traumatismi. L'onicomicosi non è solo una problematica funginea appunto, ma può essere confusa con traumatismi ripetuti, ad esempio con una calzatura, con l'utilizzo di una calzatura antinfortunistica, ad esempio per chi lavora in ambienti aziendali, eccetera. È molto importante non affidarsi solamente alle pubblicità o ai vari spot che ci dicono di usare prodotti per la cura delle onicomicosi, ma è prima bene rivolgersi al podologo per fare appunto una prima valutazione clinica e poi per effettuare un trattamento che vada ad aiutare tutti quei prodotti che noi emettiamo. Certo, anche perché bisogna riconoscerla, bisogna riconoscerla e non andare così a intuito oppure sui consigli molto spesso del dottor internet o qualcos'altro. Esatto. Quindi immaginate la pratica del podologo, quanto può essere varia e poi ovviamente il podologo tante volte entra anche per esempio nello sport, perché quanti sono gli sportivi che hanno problemi proprio a quello che l'attrezzo per loro principale è il piede? Sì, questo è un altro aspetto fondamentale del lavoro in quanto il paziente sportivo è un paziente che ha sempre carichi eccessivi sul piede, per cui abbiamo bisogno di tenere monitorato costantemente il piede ed aiutarsi anche dal punto di vista biomeccanico, per cui tutta la valutazione e lo screening e la prevenzione di problematiche ci porteranno poi ad avere un'attività fisica più efficiente. Certo, e non è mica un caso che il dottor Brunetti è qui a Fisioradi dove c'è una struttura che a 360 gradi può davvero accompagnare anche lo sportivo in tutte quelle che sono le sue problematiche patologiche. Dottore, grazie. È stato davvero molto chiaro, molto esauriente e ci ha fatto capire una volta di più quanto è importante la sua specializzazione. Grazie. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.